Che volevi dirmi? Che figurino! Elegante il nostro togno. E pensarei che quando veniva a domandarmi il lavoro, avevi le pezze nel culo. Volevi sapere chi è il mio sarto? Bostava fare una telefonata? No, veramente a me del tuo sarto non me ne fotte niente. Deve dire a tuo fratello Santi che non è che sta rompendo la minchia, ma di più, un po' di più... Non capisco di che cosa stai parlando. Tu lo capisci perfettamente. Sto parlando di quel infame di Sala. Io con Sala non c'entro niente. Se hai dei problemi, te li devi risolvere da solo. Tante belle cose da Rosà. Oh! Tonio... Tonio, sto parlando con te, ma capisci? Sala non è... cosa mia... cosa tua. Sala è della famiglia. E minchia vuoi? Devi parlare con tuo fratello. Sono anni che non lo vedo, non ci parlo più con mio fratello. Poi invece arriva il giorno che ci parli. Perché se non ci vai tu... ci va lui. C'è lui. Saruncio. Un forte braccio non si piega alle minacce. Tonio! 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 No!